Sindaco, innanzitutto complimenti per l'elezione. Grazie. Cosa mi hai portato di bello? Eccolo qua. Gli ho portato queste. Le forbici. Le forbici. Non ha perso la calma il sindaco di Rotondi, Giuseppe Ilario, quando l'inviato distriscia la notizia, Luca Bete, gli ha consegnato un paio di forbici. Taglia e incolla il significato simbolico del cadò consegnato al neoprimo cittadino del Comune Irpino che in occasione della presentazione della sua lista in campagna elettorale per le amministrative del 3 e 4 ottobre appena trascorse ha utilizzato parte del discorso dell'ex sindaco Giavellino Paolo Foti che nel 2013 in campagna elettorale appunto utilizzò le stesse parole Non sono un professionista della politica, non vengo dai banchi del Consiglio Comunale, non ho tessere di partito è solo uno dei passaggi del discorso che il sindaco Ilario ha utilizzato e sottolineato da striscia un discorso che ha portato alla vittoria del sindaco Giavellino Paolo Foti nel 2013 ed ora ha portato bene, otto anni dopo, a Giuseppe Ilario eletto appunto primo cittadino di Rotondi Non c'è stata l'idea di copiare ma estrapolare tre concetti universali ha sottolineato con il sorriso stando al gioco Ilario ad Abete Giocando sul filo dell'ironia, Ilario ne ha approfittato per invitare l'inviato di striscia alla notizia da qui a qualche mese quando si potranno vedere i primi frutti della sua amministrazione e della svolta che intende dare al piccolo centro caudino Lasciando su proposta di Abete un messaggio ai bimbi del suo paese i bambini di Rotondi devono studiare a chi usato Ilario e le cose copiate, se prese bene, possono servire